Musica Salve a tutti ragazzi, io sono Predator Erogi e sono qui tornato con questo nuovo video nella quale andrò a trattare di un argomento che sicuramente avrete già sentito parlare da un po' di altri youtuber famosi e non ed è un argomento che sicuramente conoscerete anche voi e che davvero vi sta rompendo le scatole come la sta rompendo il resto dell'Italia allora, l'argomento che andrò oggi a trattare si tratta delle connessioni italiane vi farò vedere lo speedtest della mia retta confronterò il mio speedtest e vi darò pari tra le connessioni italiane e quelle non e infine vi chiederò le vostre opinioni personali quindi facendo questa piccola scaletta partiamo subito con l'inizio del video se possiamo definirlo così ecco allora, le connessioni italiane sono diciamo delle connessioni molto deboli se non quelle più deboli in tutto il mondo in quanto i cavi della rete italiani sia telefonici che DSL sono stati montati in un'epoca davvero molto molto remota rispetto agli altri paesi quindi mentre gli altri paesi hanno potuto beneficiare della tecnologia più recente la nostra tecnologia è rimasta quella montata tanto tempo fa che non è stata aggiornata perché l'Italia non vuole spendere soldi in quest'ambito di internet nonostante internet sia davvero un bene cioè sia davvero essenziale per la nostra epoca perché siamo nel 2012 tutto gira intorno ad internet e alla tecnologia riguardante i pc quindi detto questo io direi di cominciare un po' con i parei di alcuni youtuber infatti ho sentito dei... ho visualizzato alcuni video e ho potuto notare che le connessioni di molti italiani non sono buone molte sono Telecom, altre Tele2, altre Fastweb, insomma chi più ne metta però ci sono secondo me nella maggioranza di quelli che ho visto Telecom, utenti Telecom allora, mentre negli altri paesi potrebbe risultare normale normalissimo avere una connessione con la fibra ottica tipo a 100 Mega e anche di più per noi qui in Italia la media della connessione è 7 Mega ok? Aspettate un momento ecco, è 7 Mega come vi stavo dicendo e questi 7 Mega però sono 7 Mega teorici in quanto... 7 Mega teorici perché nel contratto loro ci scrivono linea fino a 7 Mega però nella realtà se noi andiamo a verificare con lo speed test di quelli 7 Mega non ci arrivano neanche la metà ovvero ce ne arrivano 2-3 questo perché? perché purtroppo la tecnologia come vi ho detto che abbiamo in Italia è una tecnologia montata su cavi vecchi e quindi non può passare un'alta velocità attraverso questi cavi perché è una cosa impensabile, impossibile perché i cavi sono troppo vecchi quindi la connessione non può passare correttamente quindi alcuni... anzi molta popolazione dell'Italia a parte nelle città più grandi dove è presente la fibra ottica come Milano, Napoli eccetera in molti paesi dove purtroppo non si può beneficiare di questa tecnologia avanzata ci ritroviamo con dei cavi di rame come del resto, ripeto, in tutta l'Italia dove la connessione passa molto lentamente e fa molta fatica ad arrivare alle case di ognuno di noi quindi... in pratica fa schifo per riassumere io fortunatamente non mi posso lamentare in quanto ho una linea fastweb di 7 mega infatti ho fatto un abbonamento a 20 mega ma purtroppo non essendo proprio vicino alla centrale me non ho ridotta a 7 perché altrimenti rischiava di crasharmi ogni 5 minuti quindi preferisco avere 7 mega precisi che 20 mega che crashano sempre comunque io prima di essere fastweb però ho abbonato a Vodafone con un servizio a 7 mega nella quale avevo sui 100 comunque 95 ping sempre che sia che uno stesse giocando usando il computer non usandolo quindi molto brutto allora ho convinto i miei genitori e la mia famiglia a passare a fastweb e ci stiamo trovando davvero bene in quanto è un servizio che è molto 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 superiore rispetto agli altri operatori a mio parere perché mentre negli altri c'è scritto abbonamento a 7 mega e poi te ne danno 3, 2 con la scusa e nel contratto c'è scritto la clausola non deve scendere mai al di sotto di 1.2 mega io ho 7 mega e su queste 7 mega teorici ce ne ho 7 nella realtà quindi non mi posso lamentare adesso andrò a farvi vedere uno speed test della mia rete quindi andiamo subito a collegarci al sito ecco qua come vedete è anche molto veloce a caricare le pagine non ho problemi ora aspettiamo che carichi la pagina eccoci arrivati andrò a eseguirlo sul server di latina ecco qua perché è il server dove mi trovo meglio come vedete io ho un ping di 45 che qui in Italia è difficile trovarlo con le connessioni lenta che abbiamo e su 7 mega io ne ricevo 7 come vedete dallo speed test ma questo non è solamente quando sono solo con un computer come vedete io sono connesso tramite wireless e ce ne ho 7 pieni e questo succede sempre rimangono fissi non è che se connetti due computer salta oppure diminuisce di connessione no è sempre così ed è questo il bello di questa connessione mettendo in preventivo anche che io sono in un punto lontano dal modem e che quindi per far arrivare la connessione fino a camera mia in modo decente uso un amplificatore di rete che mi permette di ampliare il segnale fino a qua altrimenti la connessione mi crasherebbe ora non sono neanche connesso all'amplificatore direttamente al modem e ciò il massimo delle tacche come vedete di connessione e come vedete c'ho 44 di ping che se agire intorno ai 40 lavoro molto buono per essere in Italia poi download 7.39 su 7 mega e di upload dovrei avere un mega che comunque vabbè un mega non è preciso comunque è 0.80 di solito quindi è abbastanza buono quindi dopo che vi ho fatto vedere lo speed test della mia rete cosa posso dirvi delle mie opinioni personali sugli operatori come sapete ce ne sono tanti in giro c'è Telecom che è quella più frequente Tele2 Fastweb eccetera eccetera la migliore a mio parere è Fastweb perché a differenza di tutte le altre reti che anche se c'è scritto Tele2 eccetera eccetera passano sempre sui cavi della Telecom Fastweb è l'unica azienda in grado di fornirvi una rete a fibra ottica privata ciò significa che la connessione non viaggia nei cavi della Telecom viaggia sui cavi della Fastweb e questa è una cosa molto bella perché vabbè la fibra ottica si sa che rispetto ai cavi in rame è meglio comunque averci la Fastweb invece che Telecom è una cosa molto meglio perché i cavi non sono vecchi cioè molto vecchi e quindi la connessione passa più velocemente io come vedete sono Fastweb ho una linea 7 MB quindi passano sempre attraverso i cavi vecchi ma come vedete ho sempre una dischetta navigazione perché 7 MB su 7 sono davvero tanti inoltre riesco a pubblicare video a una velocità abbastanza buona devo dire quando gioco sempre dalle 3 alle 4 tac che comunque non scendono molto in basso a meno che non si stressi la connessione con download ma questo qui succede con tutte a meno che non siano proprio quelle potenti quindi che dire per questo video io ho concluso fatemi sapere la vostra opinione personale su questo argomento magari lasciate anche un like e iscrivetevi al mio canale se volete altri video quindi io vi saluto al prossimo video e iscrivetevi al mio canale